Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Dopo aver ascoltato, infatti, il toccante discorso sull'amore impossibile della principessa Soraya, il team decide di organizzare anche un concorso letterario da abbinare sempre alla settimana persiana. Più tardi Alfredo prova in qualche modo a estorcere informazioni da Clara e Jerome, intanto Marta resta incredula di fronte a una scena inaspettata. Perché Enrico sta salendo sulla macchina dei carabinieri? Più tardi Marcello fa il suo ritorno dalla Germania con una verità davvero inaspettata. Conosce tutti i dettagli sulla truffa di Offer ed è per questo pronto ad affrontare il fratello, il Paradiso delle Signore 9. Puntata 37. Martedì 29 ottobre 2024. Mimmo non perde tempo e inizia subito la sua nuova vita da carabiniere nella grande città di Milano. Intanto Marta, ancora sospettosa per la scena di Enrico, decide di chiedere informazioni per saperne di più. Cosa nasconde Enrico? Al Paradiso prosegue l'iniziativa dei racconti per il concorso letterario sugli amori impossibili. I clienti sono quindi invitati a scrivere ognuno la propria storia. Ma a proposito di amori impossibili, una strana ombra sembra abbattersi sulla storia tra Roberto e Mario. Di cosa si tratta? Intanto Marcello si prepara a denunciare Umberto dopo la sconvolgente confessione di Matteo. Silvana, intanto, prova a far tornare la ragione in Barbieri, ma senza successo. Il Paradiso delle Signore 9. Puntata 38. Mercoledì 30 ottobre 2024. Più tardi Marcello condivide anche con Armando le tensioni avute con Umberto la sera precedente, ricevendo il consiglio di discuterne con la contessa. Nel frattempo, Mimmo si sta adattando alla vita milanese, nonostante le notevoli differenze rispetto a quella che svolgeva prima in Sicilia. Al Paradiso, invece, la selezione dei racconti più interessanti viene estratta dal bussolotto delle clienti. Contemporaneamente, Enrico rivela a Marta alcuni aspetti nascosti del suo passato, ma non tutti. In parallelo, Umberto cerca di persuadere Adelaide a intervenire affinché Marcello mantenga il silenzio su certi argomenti. La contessa, tuttavia, è indecisa su come agire, creando ulteriori tensioni nella sua relazione con Marcello. Il Paradiso delle Signore 9. Puntata 39. Giovedì 31 ottobre 2024. Scopriamo che Agatha fatica a convivere con Mimmo, tanto che i loro conflitti raggiungono un punto critico. Parallelamente, dopo aver esplorato un'inaspettata intimità, Enrico e Marta decidono di mantenere le distanze per un po'. Nel contesto del Paradiso, invece, arriva il momento di annunciare il vincitore del concorso letterario della settimana persiana. Nel frattempo, Marcello si confida con Roberto riguardo a quanto scoperto su Umberto, cercando il suo aiuto per denigrarlo pubblicamente. Tuttavia, Roberto lo invita alla cautela. Contemporaneamente, Guarnieri vive il periodo più turbolento della sua vita, preparandosi a rivelare a Marta l'intera verità, il Paradiso delle Signore 9. Venerdì 1 novembre 2024 non va in onda per festività. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie